diamo il benvenuto a lorenzo giovanotti ciao lorenzo come stai bene vanessa sto bene grazie molto bene poi in questo lavoro però sei solo giovanotti cioè come mai non c'è più lorenzo c'è scritto piccino sì sì perché non potevo abbandonarlo anche perché mi chiamo così ma non lo so guarda non lo so forse perché è talmente evidente per chi ascolterà il disco che si tratta di un di un'avventura proprio mia personale proprio di di lorenzo che anche sottolinearlo con con il nome come ho fatto in passato mi sembrava inutile e quindi ho ridato visibilità al mio nome d'arte che poi di fatto mi è sempre sempre piaciuto io sono sempre curiosa di capire no come si vive il momento del passaggio della fine del disco dove il disco è tuo e dove invece poi inizia il momento degli altri come lo vive come vivi questi giorni per me è il momento migliore di tutti i due momenti belli di quando faccio un disco al momento in cui nasce una canzone e mi rendo conto che c'è una specie di di momento di chiaroveggenza in cui vedo il futuro si vede un po il la canzone poi a volte si questa questa chiaroveggenza si rivela o a volte invece magari una cantonata però in generale uno sente di ed è una botta di adrenalina pazzesca poi io quando so che nel disco non posso più intervenire quindi disco esce mi rilasso molto e dico vada come vada o il lavoro l'ho fatto l'ho fatto meglio che potevo ce l'ho messa tutta non ho tralasciato nessun dettaglio quindi a questo punto se piace se piace sono felice se non piace io il mio lavoro l'ho fatto c'era una sorta di chiaroveggenza ci pensavo sul tuo nome che rubini su rick rubin io l'ho anche detto io l'ho detto subito cioè ci chiamiamo anche un po uguali nel senso che io ti contengo contengo il tuo nome nel mio nel nel mio cognome fra l'altro c'era un'altra un'altra coincidenza nella villa a firenze dove abbiamo montato lo studio di registrazione per registrare il disco c'era un pianoforte bellissimo uno stanway dei primi del novecento appartenuto a rubin stein per cui ho detto c'è anche rubin stein proprio il grande pianista per cui si un sacco di questo è un disco piano di coincidenze in realtà nella sua nascita coincidenze astrali direi c'è un po di magia dentro questo disco perché io penso ho la sensazione che che rubin sia un po mago che sia un po mago se noi fossimo non nel mille non nel 2017 ma se fossimo non sono nel cinquecento oppure nel seicento all'epoca di degli alchimisti quelle robe lì probabilmente lui potrebbe far parte dei maghi maghi alchimisti gli alchimisti sai quel mondo lì è vero è vero ma ho avuto spesso la sensazione in studio e lui ti ha detto che ti avrebbe fatto conoscere una parte di te che forse ancora non conoscevi non non sapevi di avere c'è riuscito c'è riuscito penso di sì questo lo dirà dal mio punto di vista c'è riuscito poi sarà il pubblico a decidere se questa parte di me gli piace o no però però di fatto sì sicuramente c'è riuscito ok o vita salutiamo tutti gli amici di belle monella tv che ci seguono nel frattempo e anche in il radio allora io ho ascoltato tutto il disco poi veramente ognuno le sue canzoni preferite no cioè poi magari anche io in generale anche io infatti c'è una che si chiama le canzoni e questa raccontavi che è nata così per caso durante la cena con con un amico è nata dopo sì è nata è nata da quella cena però poi l'ho scritta il giorno dopo perché quella frase che ci siamo detti mi è rimasta impressa e ho cominciato a pensare questa è una bella è una bella massima e noi in qualche modo che è meglio una canzone brutta di una canzone che vuole essere bella no ma questo riguarda può anche poi poi anche trasferire questa cosa qui anche al alla bellezza fisica alle persone all'apparenza no spesso la bellezza che colpisce veramente è sempre quella inconsapevole no è la bellezza migliore quando ti fanno una fotografia che tu non sai che ti stanno fotografando ti piaci sempre di più di quando ti metti in posa sei d'accordo bella ma sto bene qua ma stavi guardando l'orologio è perché poi è la bellezza inconsapevole quella è quella è quella degli animali no è quella perché gli animali sono sempre fotogenici te lo sei mai chiesto perché perché non si mettono mai in posa non si mettono mai in posa perché i bambini vengono sempre in foto i neonati sono sempre spazzeschi in foto perché non si mettono mai in posa e questo succede per esempio con certe popolazioni indigene che magari non frequentano la fotografia sono sempre incredibile nelle fotografie no sembrano sempre dei re o delle regine per questo per questa ragione per cui anche nelle canzoni funziona funziona questa cosa qui una canzone non deve avere non deve sentirsi la costruzione della canzone non si deve intravedere l'impalcatura della canzone deve essere e questo a volte si riesce a fare anche artificialmente c'è qualcuno molto bravo ma non funziona quasi mai la maggior parte dei casi una canzone arriva con una specie di dono di dono da qualche parte poi ognuno decida di credere da quale parte ma io non lo so è arrivato un dono anche in nuova zelanda perché quest'anno non ti si è fatto mancare nulla hai deciso di prendere la tua bicicletta e fatto questo bel giro in nuova zelanda un po di giorni e lì è nata un mese ho fatto 3.500 chilometri solo bellissimo bellissimo ripartirei guarda domattina e lì è nata qualche canzone di ovita no 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 non ho scritto niente non ho neanche ascoltato musica non ho fatto niente però è nato il desiderio che è più importante ancora delle canzoni perché poi le canzoni vanno a riempire quel desiderio per cui lì in realtà ho buttato alle mie spalle mi sono gettato alle spalle me stesso in qualche modo no perché venivo da un anno meraviglioso un bagno di folla stadi palasport e quindi sa che succede no che ti parlo di una cosa che è un rischio no nel quello che faccio io che a un certo punto uno si costruisce un castello no un castello fatto di diventi una specie di rock star no e smetti di essere un artista perché e quindi però invece noi se io prima di tutto voglio essere un artista insomma se poi la fortuna fa in modo che io poi sia anche una rock star quello è una meraviglia e io lo prendo e prendo tutti gli aspetti del mio lavoro quelli meravigliosi come questi anche quelli più strani però di fatto faccio questo perché mi piace l'idea di essere un artista volevo fare l'artista da ragazzino perché lo sei no questo poi lo diranno gli altri ma io è sempre quello che ho sempre sentito di essere ho sempre avvertito di far parte di una comunità di che per me era composta da dai graffitisti da kittering ma anche presuntuosamente da raffaello piuttosto che da modigliani ero talmente attratto da quella roba era quello che mi interessava del mondo mi interessava mi interessavano guardavo disco ring in televisione da piccolo guardavo come erano vestiti guardavo come si muovevano mi ricordo andavo le prime volte che andavo ai concerti guardavo più che il concerto guardavo che cosa stava succedendo tra il pubblico il concerto che cosa cosa succede come si cosa sta facendo quello lì perché lo fa in quel modo lì condivido questo con non potrei fare con quello che faccio se non fossi curioso poi ci sono c'è tutta un'altra parte di colleghi che invece non hanno bisogno di essere curiosi perché magari hanno un talento naturale no rispetto non so una voce incredibile piuttosto che una capacità una musicalità innata che io probabilmente non ho e quindi sopperisco a questo tipo di mancanza con un altro tipo di energia che in fondo nelle mie cose chiusura di anno incredibile libro sbam giova pop shop e poi stadi tour febbraio si non sta di palasport per la sport quest'anno suoniamo tranne all'arena di verona dove saremo all'aperto ma il resto dei concerti sarà tutto saranno tutti nei palasporti nei più grandi palasporti italiani e quelli in grado di accogliere questo spettacolo che sarà un bel bella bestiona in bocca al lupo grazie per essere stato con noi felice quindi conosci la grey su belle monella con lorenzo ciao grazie ragazzi ciao grazie